A Teramo sono state circa un centinaio le domande tra pubblico e privato presentate al Comune relative alle richieste di ristoro dei danni provocati dall'imponente nevicata del 2017. Completata questa fase, ora le domande raccolte verranno girate all'ufficio speciale di competenza per le valutazioni del caso. Una volta terminata la fase di analisi, si darà seguito ai rimborsi che ammontano a più di 16 milioni di euro. Un po' inferiore rispetto a quello che è stato nel 2017, nel senso che nel 2017 abbiamo avuto più di 200 domande di risarcimento danni, escludendo la parte pubblica. Oggi abbiamo avuto circa 75 richieste di risarcimento danni dai privati e 27 per la parte pubblica, tra cui nelle 27 c'è anche una richiesta da parte dell'Università di Teramo e una richiesta che viene dal circolo tennis di Teramo ma che ovviamente può essere inclusa da quelle dell'amministrazione comunale. Questo risarcimento quando ci sarà? Adesso le domande sono state trasmesse all'USR per la verifica della conformità, quindi per verificare che tutti gli atti siano conformi e che ci sia il nesso di casualità, quindi la dimostrazione e il nesso di casualità. Dopodiché ci sono state anche delle domande che sono arrivate oltre i termini previsti, nonostante sia stata già una proroga. Non so come saranno verificate e trattate, ma nello stesso tempo il Comune di Teramo ha chiesto una somma da risarcire di un pari intorno a 13 milioni di euro, mentre invece i privati si aggira intorno a 3 milioni, 3 milioni e mezzo di euro. Quindi diciamo che sarebbero fondi importanti se potessero arrivare, il territorio solo aspetta, la nostra amministrazione comunale ha ovviamente lavorato lacrimente per risalire a tutte le problematiche che furono connesse con l'emergenza neve e sisma del 2017 e devo dire che grazie all'attività dell'ufficio tecnico siamo riusciti a fare delle richieste di risarcimento d'anni che sono importanti e che potrebbero ovviamente aiutarsi nel futuro della nostra attività amministrativa.